Tutto questo è nato dal post che il giorno della morte ha scritto Dario, il padre di Rebecca, sulla pagina Facebook del Supporter Trust. Quindi noi ricordando la bambina abbiamo voluto incontrare i genitori quest'estate proponendo proprio questo quadrangolare nel ricordo della piccola Rebecca. Tra l'altro grandissima tifosa nera arancio e il suo giocatore preferito era Jay Pecher. Infatti lei, da quanto ci diceva il padre, qualsiasi ragazzo che incontrava rincorrendo un pallone lo chiamava Jay Jay. Questa iniziativa, quindi è tutto questo, tutta l'anima del Supporter Trust, uniti tutti intorno alla famiglia Cuzzucoli per rendere omaggio a Rebecca. Grazie a tutti.